Buongiorno a tutti, oggi vi faccio vedere come utilizzare i nuovi colori. Sono gli acrilici color chic che abbiamo lanciato con la Fiera di Roma. Questi colori possono essere utilizzati sia per fare dei decori particolari, rose, roselline, fiore e quant'altro, o degli stencil sui vostri mobili con colori completamente diversi, ma soprattutto, visto la grande richiesta che sempre ci avete fatto, per modificare, visto che sono concentrati, i vostri colori base. Quindi noi abbiamo già 20 colori base che possono essere modificati con questi acrilici. Allora, l'acrilico che stiamo utilizzando è il blu e andremo a modificare il velo di viola. Facciamo vedere bene il colore, quindi regolatevi poi voi come farlo e fatelo sempre un pochino alla volta. Quindi adesso io vado ad aggiungere un pochino di blu, vedete che sono concentrati belli densi? E poi vado a mescolare. Andremo a fare un violetto un pochino più intenso. Fatelo sempre un pochino alla volta, oppure prendetevi una quantità minore, a secondo del lavoro che dovete fare. Dosatelo, cercate di preparare subito tutto quello che vi serve, in modo... perché altrimenti potrebbe succedere che non vi torna più uguale. Io adesso ne aggiungo un altro pochino e poi, visto che noi siamo in laboratorio, vi faccio vedere con cosa lo andiamo a miscelare. Prendete un frullatore da dolci, questo è vecchio, di quelli proprio economici, e andate a fare questo lavoro, proprio come se dovete impastare in una torta. Vedete come si sta mescolando bene il colore? Andate fino in profondità. E noi adesso abbiamo fatto, anche se non si vede, il nostro velo di viola un po' più intenso. E noi adesso abbiamo fatto, anche se non si vede, il nostro velo di viola un po' più intenso.